La siccità in Etiopia sta compromettendo la sopravvivenza di oltre 10 milioni di persone. Un'emergenza tale non si registrava da 50 anni. Circa il 10% della popolazione etiope rischia la vita a causa della mancanza di acqua e quindi anche di cibo. E non è che l'inizio, i numeri sono destinati ad aumentare. Questa emergenza diventerà una drammatica crisi alimentare, secondo gli osservatori. Dal 50 al 90% delle colture sono andate perdute e nella zona orientale del paese la distruzione è completa. La siccità alimentata dal nigno ha già messo in ginocchio l'agricoltura e l'allevamento. La produttività dei raccolti in Etiopia è infatti crollata e dall'inizio dell'anno 500 mila capi di bestiame sono stati decimati dalla mancanza d'acqua. I 150 milioni di euro ricevuti finora coprono meno di un terzo del fabbisogno, secondo le autorità etiopi.